Bosis è già pronto, sale con estrema facilità nella prima parte del percorso, ma è difficile, arriva adesso, primo piede, vedi visto, per Bosis che non ha fatto sottovalutato l'ostacolo, ma che ha dovuto pagare comunque un piede a terra. E questa seconda parte potrebbe essere presa in velocità dai piloti, vedremo quali scelte faranno i concorrenti, attenzione, vedete adesso la traiettoria giusta, è pronta, bravo Bosis, sale bene, adesso questo ostacolo da Semovini, e il passaggio spettacolare con l'avantreno sollevato, prima che andare ad appoggiare, è brava ruota, gol in amore, questo è quanto viene a periodo della prima parte a Bosis, il ritorno, per rendergli la vita ancora più difficile. Il secondo piede per lui, è l'appoggio, adesso si dovrà ruotare via. Bello, scelte, parlate, con, con lo schiena, spazio di appoggiarsi, spazio, passando posteriore, questa bicicletta. La parte finale dovrebbe essere un gioco da ragazzi per Dico Bosis, ci arriva, ci arriva, adesso, attenzione perché deve arretrare, limite estremo, guardate la ruota posteriore. E sullo spigolo come l'anteriore, bravo Bosis, e sono due, uno in andata, uno in ritorno, gli errori della pilota Bergamasco.